dobbiamo fare se non cambiano Rosana dai pensaci un po' tu perché così non se ne può più diamo che non ti arrendi mai e provi e riprovi finché ce la fai Rosana il tuo cuore palpita ma la tua pazienza scalpita con tutta la tua vitalità Rosana sei proprio una piccola star sei una star una star il nostro cuore va per la sua strada sei una rowa sono una grande fan della storia dell'arte in generale mi è capitato tante volte di avere episodi di sindrome di Stendhal nei musei non so se sei presente sì ok quindi l'arte è una cosa che mi fa molto emozionare secondo voi ragazzi se al posto di questi quadrati ci fossero tutte sedie da gaming quanto ci metterebbe la scimmia a sceglierla? sta serio? quanto ci metterebbe? che c'è tra vangaga? che c'è tra luga? che c'è tra luga? semplici come banana perfetto vabbia uoooh uoooh scontro scontro uooooooh Tiro Tira vai Lu L'hai rotta Lu sono 1400 euro di sedia Ma l'hai rotta Ma l'hai rotta Ma quanto cazzo non l'hai fatto forte Fede giramela Fede girala Fammi vedere L'hai rotta Aggiusta subito Scusami eh Ma scusa Nani Ma è in ora che ci sta chiacchierando C'è la dichiaria di tromba Ma che sei scemo E poi comprati streamer Dalle zito Che c'è la versione della base Da barboni Dio madonna Io posso ancora schiacciarlo Tutto guai O poi così I miei fratelli I miei fratelli Reddino Guida Elma Mamma Antonella E E che c'era poi Scusate che mi avevano proprio detto Fatemi salutare Ok ok Penso Sparkey Lucas HR Aski Principalmente loro Come è stato l'approccio di Nani No L'approccio di Nani È stato Letteralmente Che tra l'altro L'ho detto anche durante la live Se l'hai vista Cagarmi il cazzo Ok Ovvero Ovvero E ha cominciato a dirmi Giulia Vediamoci Giulia Vuoi fare una live con me Giulia Mi piace Giulia Ti voglio conoscere Ha detto mille volte Alla fine ho detto Ok va bene Semplice Questo è l'approccio Super figo Ma a me fa male Sulla schiena No sulla testa Sì Ora sono proprio Uno streamer Un pro players La vedete sì Di Dei due lati La pelle Non c'è il microfono in mezzo Perché sto facendo vedere i lati La pelle in pratica È tutta Leggermente Storta E Mike Ha detto che era Scucita la sua Però in realtà Per me è fatta così Cioè pensavo Perché È il momento È bru Vai Vado eh Mi sto per sedere Musichetta epica Musichetta epica La La vado a provare Mi siedo eh Ale Lu Aspetta Lo so A primo impatto È strana Sembra di sedere Vedete sto scomodo Voglio cambia sedia Ecco Quindi il resto No Aspetta Tu siediti Ci sono varie funzioni Che tu puoi usare Ma non è una nuvola Mi hanno detto Che è una nuvola Lu C'è una manopola dietro Per poterla far diventare Nubola Stammi a sentire Siediti Ok Ok Ma sembra Sparare Fammi sparare Fammi sparare Catta per me Brava Oh vedi quel cento Lo vedi quel cento Lo vedi quel cento Ho vinto mille euro Il blackjack Viva la figa Lo vedi quel cento So the information You should remember Is that The emojis Are not related To the multipliers Ok So yeah You can just aim And shoot at one of these emojis And I really wish you all the best To hunt 300x Which is the highest multiplier For you So let's reveal Lo vedi quel cento Lo vedi quel cento Lo vedi quel cento Lo vedi quel cento Per entrare in una tua live Mentre stavi parlando Dell'amore E hai detto Che tu pensi Di non aver mai provato L'amore Vero Nella tua vita Sì Perché? Perché? Aspettavo te Giulia No Vabbè Perché 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 Non lo so Per me l'amore Non è È qualcosa di più Inizio l'appuntamento Mamma mia Ho paura Ciao Giulia Ciao Nanni Benvenuta Grazie Come sei bella oggi Oggi Anche ieri ma Anche tu sei bellissima Grazie Grazie Bellissima Si si vede un po' il video Da riflesso Effettivamente Madonna Santa Madonna Cazzo Che cazzo è Cazzo Va bene E cosa ti ha spinto Ad accettare Questo Questo invito Ma E Mi hai rotto Tanto il cazzo E Quindi A una certa Ho detto Ok Va bene No No No